Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare la telecamera per completare la sfida che richiede di ballare per 10 secondi davanti alla telecamera in spiagge sudate. Questa è una delle sfide della quarta settimana per cui sarà disponibile dalla prossima settimana. Tutto quello che dovete fare è molto semplice. Raggiungete il chiosco dei gelati a spiagge sudate qui dove vi ho messo il segnalino e atterrate qui su questo tappetino luminoso davanti alla telecamera ed utilizzate una qualsiasi emote in dotazione è indifferente. L'importante è che ballate per 10 secondi.